ciao sono maurizio toia dievo casa oggi ti porto a vedere un appartamento che ha tutto quello che serve c'è un bel terrazzo c'è il box per l'auto e c'è una tavernetta collegata con una scala interna andiamo a vederlo al volo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti